Signor Sindaco, dove sono i parcheggi in questa città per gli autobus da turismo? Sicuramente abbiamo poche aree parking per i bus turistici rispetto al numero di turisti, alla quantità di turisti che stanno venendo nella nostra città. Io credo che nel futuro bisogna maggiormente attrezzare delle aree, penso allo stesso porto o comunque delle aree di ingresso nella nostra città. Attualmente in alcuni casi entriamo un po' in difficoltà perché sono veramente tanti bus turistici che vengono alla nostra città, che hanno dei percorsi, hanno delle aree loro destinate che cominciano a essere poche. Sindaco, cosa sta facendo per la sicurezza? Noi cittadini a questa bella città vorremmo passeggiare anche di sera e stare più tranquilli? Il sindaco di Napoli, il sindaco delle città italiane non è come il sindaco americano o di altri paesi del mondo che sono i responsabili della sicurezza. Quindi noi non possiamo coordinare, non possiamo dare ordini alle forze dell'ordine su come garantire la sicurezza della nostra città. Perché la prevenzione e la repressione dei reati spetta e coordina in materia di competenza del prefetto e dei responsabili delle forze dell'ordine. Quindi polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza. Sicuramente io ho molto a cuore la sicurezza. Quindi in tutti i tavoli ai quali partecipo anche personalmente della sicurezza e dell'ordine pubblico, chiedo sempre le solite cose, più forze dell'ordine per strada, più coordinamento, più presenza anche la sera e la notte. Ovviamente sottolineo sempre lo straordinario lavoro che fanno le forze dell'ordine nella nostra città, ma anche loro hanno purtroppo penuria di risorse e di mezzi, perché la spending review è stata brutale per alcuni servizi, come la sicurezza, così per la sanità, la scuola, le buche, il trasporto pubblico, le politiche sociali e altro. Poi siamo noi che la esubbiamo sulla nostra pelle, noi come amministratori locali e noi come cittadini. Quindi sicuramente chiedo sempre che ci sia sicurezza nella nostra città. Poi la sicurezza un sindaco la deve però poter praticare anche in un altro modo, provando a rendere la città più vivibile, quindi con più cultura, più vita serale, più vita per le strade, più iniziative nelle piazze, nei vicoli, nei borghi. Ecco perché secondo me le pedonalizzazioni sono importanti se vengono arricchite di eventi, perché diventano luoghi non semplicemente recuperati al degrado, ma anche luoghi vissuti e quindi più sicuri. Buongiorno signor sindaco, visto che Piazza Garibaldi è la stazione centrale del biglietto da visita della città di Napoli, in quanto affiorano tanti turisti, perché non cerchiamo di renderla più decorosa, soprattutto negli orari serali? Sì, ci dobbiamo lavorare in tanti. Su Piazza Garibaldi abbiamo istituito anche un tavolo, addirittura con una delibera, a cui partecipano tutte le categorie commerciali, economiche, imprenditoriali, associazioni che operano sul territorio. Piazza Garibaldi già sta migliorando tantissimo, in particolare con i lavori che si stanno effettuando effettuando presso la stazione e presso la stazione della metro. Ho ragione di ritenere che per metà, fine 2015, l'intera piazza, quindi tra poco più di un anno, sarà interamente riqualificata, quindi sarà una piazza che a memoria, diciamo, almeno della mia generazione, non la ricordiamo, perché è stata sempre una piazza molto degradata. Bisogna andare probabilmente alla prima parte del Novecento per ricordare una bella piazza. Siamo molto fieri perché diverrà una piazza riqualificata, in cui si potrà utilizzare lo spazio pubblico per attività commerciali ed economiche, quindi ci sarà sicuramente più sicurezza, più decoro. Poi anche qui noi con la Polizia Municipale, e auspichiamo che anche le altre forze dell'ordine ci quadrino in questo, stiamo cercando di intervenire su Piazza Principe Umberto, su Piazza Garibaldi e anche sulle vie adiacenti, Corso Garibaldi, Corso Meridionale, però insomma le attività anche in un momento storico, in cui non abbiamo i soldi per poter pagare straordinariamente la Polizia Municipale, possiamo dire dei passi in avanti, i forti stanno facendo. Vedo una Corso Umberto molto migliorata rispetto a prima, anche lì la Polizia Municipale sta facendo un bel lavoro, aprirà fra due anni la stazione di Duomo, i lavori che stiamo facendo di riqualificazione, da Via Duomo a San Giovanni a Carbonara, col grande progetto dei fondi europei, e insomma si inizia a percepire la ripresa di quella zona, vorrei anche citare gli investimenti nel settore alberghiero e turistico che si stanno facendo in quella zona, come anche per esempio le eccellenze campane che ha aperto a Via Brin, poco distante dalla stazione, insomma quindi non possiamo più parlare secondo me di un'area degradata, non è ancora quello che auspichiamo ma passi in avanti forti ne sono stati fatti. Sindaco, mi chiedevo, cosa sta facendo per la manutenzione delle strade che portano all'aeroporto? Sulla stazione di Capodichino stiamo facendo lavori importanti, tant'è che per indice di gradimento l'aeroporto di Napoli oggi è secondo solo a Venezia, sono riuscito a ottenere i finanziamenti, non pochi, perché oltre 700 milioni di euro per il completamento della metropolitana che da Piazza Garibaldi porterà a Capodichino. Sicuramente bisogna invece intervenire forte per migliorare i luoghi di accesso all'aeroporto, ecco perché siamo riusciti anche qui con grande fatica a trovare le risorse per la completa rifacimento del manto stradare di Via Nuova del Campo, Via Don Bosco, quindi a Piazza Carlo III fino a sopra e proprio in questi giorni sono in corso i lavori a Calata Capodichino per il rifacimento della strada, così come a breve partiranno anche i lavori per Via del Riposo e così come anche abbiamo deciso di delocalizzare i cittadini Rom che si trovavano in quel campo assolutamente allucinante di Via del Riposo, quindi adesso è tutto in atto un'azione di recupero dell'area intorno Piazza Garibaldi, vorrei sottolineare anche i lavori che sono stati fatti insieme a Gesac su Via Ruffo di Calabria, quindi l'accesso all'aeroporto sta diventando sempre un po' il fiore all'occhiello della nostra città, così come vogliamo migliorare le porte di accesso, stazione Garibaldi, porto e aeroporto.